benvenuti a tutti sul mio canale uscita numero 44 della nostra raccolta preferita ovvero warhammer conquest dopo tanti piatti ricchi un'uscita un po più normale che comunque ci regalerà delle cose molto interessanti come al solito come guida e due colori uno nuovo che non abbiamo mai avuto e un rinforzino di leader blocker e un necron compound che poi andremo a vedere cosa ci serve riciclate come al solito e ora andiamo a leggere cosa dice il nostro amico jan in questa uscita in questo numero trovi il tuo primo colore dry il necron compound questa gamma di colori è formulata per la tecnica del dry brush l'hai già sperimentata con i colori base dipingendo i monitorum armoured container ma scoprirai che con i dry è ancora più semplice questo colore ti servirà per lumeggiare le parti argentate la guida ti insegnerà a farlo su thermic plasma conduit e termine plasma regulators per poi passare ai dettagli di entrambi i modelli bonobby ian come vedete cose nuove ogni uscita e mai ripetitive abbiamo un po di fazioni la deptus meccanicus eccoli qua come si suddividono e un po di storia cronac di ultramar poi i plug drone diciamo che come droni sono abbastanza originali eh guardate quanta pestidenza e perniciosità in questi soldati ecco qua gli imperial fists non voglio essere malizioso molto molto belli ma anche il giallo ha il suo perché nei space marine eh ok qua come vedete una volta pitturato sotto con l'argento col pennellone asciutto si fanno le parti esposte e si hanno le lumeggiature che posso assicurare e non è la prima volta che ve lo dico fanno la differenza perché davvero danno profondità ok qui ritiriamo fuori gli armored container che ovviamente ci suggeriranno di pitturare nel modo giusto con questa tecnica e le utilizziamo questa volta però su questa cartina ci danno le regole dei container e qua una missione la mission numero 28 come al solito anche qua non ci si annoia prossimo scelta scout e poi la 46 guardate quanta pestidenza e soprattutto che piatto ricco che ci aspetta sempre a 9,99 euro incredibile non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima battaglia ciao e tu si dico proprio a te ti sei già iscritto al canale non vorrai mica far arrabbiare l'imperatore non costringerlo a plasmare la tua psiche non vorrai assaggiare il fuoco dei nostri requiem ora vai e sconfiggi il caos ciao ciao ciao